L'ospitalità non è una cosa che si impara a scuola, è qualcosa che respiri nell'aria del luogo dove nasci, che cresce nella terra. L'ospitalità ti fa sentire bene e fa sentire bene gli altri. Ospitalità significa aprire le tue braccia al mondo, rimuovere qualche ostacolo e rendere tutto più accessibile per tutti. Un paese più ospitale è un paese migliore. Un paese più ospitale è un paese migliore.